E io credo che bisogna trovare il modo per porre rimedio a un'incongruenza forte, visibile e che certamente non è accettabile. Anche e soprattutto per chi come me al mattino ha un mal di pancia assicurato dopo la lettura del giornale. Ogni volta che mi alzo se sono di buon umore il giornale me lo fa passare. Però nonostante questo dico a Salustri che vogliamo continuare ad avere quel mal di pancia perché è la democrazia. Grazie. Arrivederci.